La cosa simile che io Viola abbiamo è questo aspetto un po' dark, un po' cubo, che a volte io nella vita mi porto dietro e Viola invece è proprio il suo primo aspetto che si vede nel film. Invece le cose completamente diverse, io Viola all'inizio la guardo senza ascolto, cioè io a prescindere l'ho interpretata senza ascolto, senza che lei volesse ascoltare gli altri, invece io amo ascoltare gli altri, questa è la differenza.